Musica Bella ragazze sono Impossible Gameita E oggi come vedete dal titolo Torno con un nuovo gioco impossibile Anzi due giochi impossibili Potrei dire addirittura Che questo è un video un po' diverso dal solito Perché ultimamente sto mettendo solo giochi Un po' o strani Inche tanti, comunque giochi che a me piacciono molto Però ovviamente Non ho deciso di abbandonare l'impossibile Anzi cerco sempre giochi del genere Trovo sempre e mi piacciono sempre di più Quindi voglio comunque proporveli E appunto i giochi che ho deciso di proporvi oggi Sono due Tutti due in flash quindi potete giocarci subito Il primo si chiama Rejoin E il secondo Type Sphere Penso che si pronunci così Comunque Rejoin cos'è? E' quello più sostanzioso come gioco In quanto durata Dei due che vi voglio proporre Ed è quello che state vedendo adesso nel video Sicuramente avete già capito Qual è lo scopo In pratica è quello di far ricongiungere L'omino Con la sua Anima tipo Si con la sua anima E Se ecco una volta ricongiunti Passate di livello Ovviamente però E' molto difficile Perché L'anima e l'omino Partono da due Da due punti diversi Del gioco E quindi Per farli ricongiungere Dovrete fare percorsi opposti Il problema è che Muovendo le freccette Muoverete nella stessa direzione Tutte e due gli omini E quindi vi assicuro Che andando avanti Diventa qualcosa di Difficilissimo Infatti Ecco adesso Guardate alcuni livelli Un po' avanti E sono qualcosa di Scoppiare la testa Perché sono veramente difficili E in più Questo gioco Ha E' molto lungo Ha fatto di durata Perché Ci sono molti Molti livelli Ci sono tante regioni E tanti livelli E quindi è molto carino Ve lo suggerisco Vi assicuro che è molto difficile Andando avanti Io infatti Mi sono bloccato In alcuni punti E trovate il link In descrizione E ci mettete un attimo Dalla provare Il secondo gioco Invece è un po' più Soft Più Più corto Diciamo E per fare qualche partitina Così A raffica Si chiama Type Esfer L'avevo detto prima E' quello che state vedendo Ora nel video E Cosa dovete fare Molto intuitivo C'è un quadratino nero al centro Delle lettere che girano intorno Voi dovete premere Una alla volta Le lettere elencate E premere invio Cioè se ad esempio C'è T, O e I T invio O invio I invio E superate il livello Il problema è Sono due Uno che Le lettere che girano Piano piano Vanno verso il centro E se toccano il quadrato Avete perso la partita E ogni volta che passate di livello Si aggiunge una lettera Quindi se a livello 1 C'è una lettera A livello 2 2 A livello 10 10 lettere E così via Però Le lettere Durante la partita Non sono sempre diverse Magari ad esempio C'è scritto 3 volte E E non basta fare E in via E spediscono tutte le E Dovete fare 3 volte E Comunque poi Se lo andate a provare Capite molto in fretta Molto rapido E vi assicuro che questo Si può intuire Diventa difficilissimo Perché andando avanti Ci sono talmente tante Lettere Che non capisci più nulla E in più la velocità Del gioco aumenta Quindi è un casino Penso che a livello Già al 13 14 15 Quei livelli Siano già qualcosa di Difficilotto Poi superarli Vuol dire che siete davvero Molto bravi Anche questo è in flash Quindi ci mettete un attimo Andarla a provare Non ho nient'altro da dirvi Riguardo a questi due giochi Spero solo che il video Vi sia piaciuto Come sempre Mettete un bel mi piace Commentate Magari scrivendo Non so Il vostro punteggio In type esfero Suggerendo un gioco Impossibile Inquietante O comunque Mettendo un commento Su Se vi è piaciuto il video Ecco Condividete il video Perché no Ora ve lo chiedo sempre Perché è importante Condividere i video Perché si aumenta di molto Il pubblico E niente Se non siete iscritti Ovviamente iscrivetevi al canale E ci vediamo alla prossima Bella